Per uscire dal problema alla fine si è scelto di ritirare quel disegno di legge sostitutivo del rendiconto generale inerente l'anno 2017 e che è stato nei giorni scorsi oggetto di contestazione da parte della Corte dei Conti Siciliana, poiché è diverso da quello precedentemente presentato e già parificato a luglio dai giudici contabili. Ed è con un blitz della maggioranza che ieri sera l'Aula in soli 10 minuti ha approvato il testo di legge già parificato con le relative modifiche concordate con la Corte. Sempre nell'arco di pochi minuti poi è stato approvato l'assestamento e il DDL sui debiti fuori bilancio, il tutto però condito da un clima di polemiche da parte dell'opposizione che ha scelto di lasciare l'Aula, con gli esponenti del Movimento 5 Stelle che hanno definito vergognoso il comportamento del Governo nei riguardi dell'operato della magistratura contabile. In pochissimi minuti, in sette minuti hanno approvato tutti i documenti contabili in assenza delle opposizioni e, come ripeto, probabilmente in assenza del numero legale. Contano i tesserini inseriti ma di fatto le persone non erano presenti in Aula. Ieri abbiamo atteso questo disegno di legge da parte del Governo per tanto tempo in commissione e bilancio, abbiamo provato a discuterlo, abbiamo chiesto il termine per gli andamenti proprio per affrontare bene il documento anziché in fretta e furia così come ci è stato proposto dal Governo. Questa cosa non ci è stata concessa, ci sono stati concessi 30 minuti che, capite bene, non sono un tempo necessario per valutare un documento del genere. Apprezzamento per il risultato di ieri sera invece giunto dal capogruppo di Forza Italia Giuseppe Milazzo che ha precisato come questa vicenda è stata la definizione di un percorso concordato insieme alla Corte dei Conti. Ieri noi abbiamo fatto ritirare all'Aggiunta il precedente documento di rendiconto e abbiamo fatto redigere e approvare all'Aggiunta un nuovo rendiconto che si avvicinasse più possibile alle indicazioni disposte alla Corte dei Conti. Non è stato impegnato un solo euro per fare alcune attività, erano solo due documenti tecnici per porre fine a una stagione, cioè quella di crocetta.